Perchè devo farti fermare, ti rifiuti di essere ricoverati? E' un terzo sugo, ciò ti dico Ma cosa potrei avere? Mi po' che botta la testa Più che altro, magari adesso non senti niente Tra un paio d'ore, invece, quando? Che ha l'adrenalina, tutto quanto? Adesso è anche tutta l'adrenalina, della pollutazione, della coa, del casino Ovviamente si genera tutto il bordello che sai Mi importa l'unica cosa del cuore, sto bene Però io qui non ho gli accertamenti per fare tutto Posso vedere se... Non mi fanno il troverdo di rama, volevo vedere Perchè questo è un elettrocardiogramma Che io faccio così rapidamente al monitor Giusto per vedere cose grossissime Però una visita specifica la puoi fare in ospedale Qui abbiamo quello che serve per un primissimo soccorso Posso provare ad alzare i piedi per avere questo? Ti puoi sedere per adesso? Ti puoi sedere prima Però io credo che sia meglio andare in ospedale L'ambulanza Sì, scusami Vuoi andarci in colore? Sei già qui sdraiato Ancora Hai detto che eravate un po' nei rovi, no? Quindi i graffi ci stanno con quello Sì, sono un po' nei rovi Mi ringrazio qui Ah, per favore Grazie Adesso guardo tutto Posso un secondo? Grazie a tutti